Cominciamo con Michele e con la Palestina. Giusto due date per capire come si struttura la guerra e il conflitto palestinese. Dicevamo prima che il numero 7 è un po' il numero emblematico per la Palestina perché nel 1947 c'è stata la risoluzione 181 dell'Assemblea Generale dell'ONU che prevedeva la spartizione del territorio palestinese, un 44% a circa 800.000 palestinesi, un 56% a 500.000 ebrei e 400.000 palestinesi, poi nel 1967 addirittura si è ancora più ridotto il territorio destinato alla popolazione palestinese dal 22%, praticamente nullo. E quindi è un conflitto che poi si è intensificato con gli accordi di Oslo del 93 che dovevano in teoria gettare le basi per uno stato palestinese, cosa che non è successa perché l'occupazione si è ancora di più intensificata all'interno dei territori palestinesi. Con te quindi Michele per cominciare dalla Palestina volevamo capire che cosa sta succedendo adesso e anche se ad esempio tu vedi degli orizzonti e degli spiragli per quanto riguarda il conflitto in questa zona del mondo. Hai nominato, hai parlato del numero 7 e in effetti è molto più ampio il riferimento temporale del numero 7, perché questo è un anno davvero particolare. Sono i 50 anni dell'inizio dell'occupazione israeliana di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme, se lo ricordavi tu, ma sono anche i 70 anni dalla risoluzione 181 della partizione della Palestina, ma ancora più importante sono i 100 anni dalla famosa dichiarazione di Balfour che fu quella con la quale gli inglesi riconobbero il diritto per il movimento sionista ebraico di colonizzare, di creare un focolare ebraico in Palestina. Non solo, ma questo è anche l'anno dei 10 anni di Hamas al potere a Gaza e i 30 anni dalla fondazione di Hamas. Perché ricordiamo tutte queste ricorrenze? Perché quando ci sono queste ricorrenze è solito anche, come dire, tirare un po' su un bilancio di quello che è accaduto, e di quello che abbiamo davanti agli occhi. E quello che possiamo sicuramente dire è che la questione palestinese non ha mai affrontato un momento così difficile come quello attuale. Un momento davvero complicato da un punto di vista internazionale, ma anche da un punto di vista interno. Perché da un lato abbiamo un'opinione pubblica internazionale, ma dobbiamo dire anche occidentale soprattutto, per non parlare dei governi europei e degli americani, che naturalmente tendono a ridimensionare sempre di più l'importanza della questione palestinese, del conflitto israelo-palestinese. Abbiamo inoltre un governo israeliano il più a destra della storia del Paese, che però incontra tantissimo favore in Europa. La sua narrazione del conflitto è estremamente efficace e conquista sempre maggiori consensi nel mondo occidentale, per cui anche l'idea di sicurezza che Israele illustra viene giudicato quello giusto per combattere il terrorismo. I palestinesi non sono più considerati da tanti, non solo dai governanti, ma anche dalla gente comune, purtroppo, come un popolo in lotta per la conquista della sua libertà, dell'autodeterminazione, ma sono stati appiattiti o infilati nel pentolone dell'Islam cattivo che minaccia il mondo occidentale, che minaccia il mondo cristiano, e si tende a non considerare più che questo popolo, quello palestinese, ed il conflitto in generale tra israeliani e palestinesi, è un conflitto sulla terra, che è cominciato per il controllo della terra, è cominciato come un'impresa coloniale, continua ad essere un'impresa coloniale, però oggi, come dicevo, si tende invece ad infilare i palestinesi in questo grosso pentolone dell'Islam che minaccia le nostre società, e il nostro mondo, e quindi non si parla più dei palestinesi come un popolo che ha dei diritti, nonostante questi diritti siano affermati dalle stesse Nazioni Unite, anche in questi ultimi anni, lo Stato di Palestina è stato riconosciuto dall'Assemblea dell'ONU, è stato riconosciuto da diversi parlamenti, in maniera comica da quello italiano, che da una parte lo ha riconosciuto e dall'altra parte lo ha disconosciuto, e anche da un governo, quello svedese, quindi esiste sulla carta, esiste, però questo Stato in pratica non sembra avere alcuna possibilità di poter nascere, infatti dobbiamo sicuramente parlare di fallimento della soluzione dei due Stati, perché quello che oggi resta ai palestinesi di quel 22%, una piccola porzione del territorio storico della Palestina, che appunto Israele non aveva occupato fino al 1948, poi nel 67 ha occupato tutta la Palestina storica, in realtà sono brandelli di territorio, sono piccole porzioni a macchia di leopardo, che corrispondono alle città palestinesi, a di centri, a di villaggi più importanti, ma non c'è la possibilità materiale di costituire uno Stato di fronte alle politiche di confisca delle terre, di fronte alla costruzione incessante di colonie, quindi di insediamenti coloniali nei territori occupati, e di fronte a tutto questo dobbiamo sempre ricordare la situazione di Gaza, che è figlia di un assedio israeliano che dura oramai da più di dieci anni, che è figlia del blocco che attua anche l'Egitto, i fratelli arabi che tanto si ricordano nelle vicende palestinesi, ecco appunto il presidente dittatore egiziano Abdel Fattah al-Sisi attua un blocco della striscia di Gaza che è assolutamente paragonabile a quello che fa Israele e in più c'è il disinteresse non solo dell'Occidente ma anche dello stesso mondo arabo verso la condizione di due milioni di persone che vivono davvero in una situazione spaventosa, quasi senza elettricità, con il 97% dell'acqua che non è potabile secondo gli standard internazionali, con una disoccupazione che è la più alta al mondo, una densità che è la più alta al mondo e sono lì in questa prigione a cielo aperto e di cui non si occupa nessuno, se non quando ci sono i conflitti più importanti come quello di tre anni fa, margine protettiva, lo citavi tu, e poi si dimentica Gaza, due milioni di persone che vivono davvero in condizioni spaventose. A tutto questo, cioè alle politiche dell'oppressione, dell'occupazione e a tutto quello che abbiamo detto sino a questo momento si aggiunge il conflitto interno palestinese, i contrasti violenti, anche violenti tra Fatah, il partito del Presidente Abu Mazen e il movimento islamico Hamas, una sinistra che non riesce ad esprimere purtroppo un'alternativa concreta a queste due forze che dominano la scena politica palestinese e che la stanno devastando contribuendo assieme all'oppressione e all'occupazione a rendere impossibile la realizzazione del sogno dei palestinesi finalmente di conquistare la libertà, di raggiungere la piena autodeterminazione. E purtroppo tu mi chiedevi se io riesco a vedere delle possibilità, purtroppo no, io vedo una situazione, e non credo di essere pessimista, ma credo di essere invece realista, vedo una situazione in continuo peggioramento e se i palestinesi non sapranno ritrovare di nuovo con la loro determinazione, la loro forza, una volontà di invertire questa tendenza e quindi anche con una nuova leadership che sappia superare queste lotte di potere inutile che stanno devastando e stanno annientando le aspirazioni dei palestinesi, io non credo che sarà possibile venire fuori da questo imbuto e concludo dicendo che non bisogna neanche dimenticare che non ci sono solo i palestinesi nei territori occupati, ma ci sono ben 5 milioni e più di palestinesi che vivono nei campi profughi e questa sera credo che parleremo abbastanza anche di profughi in Libano, in Siria, in Giordania, vittime anche delle nuove guerre, non solo di quelle che hanno subito nel 1948, di loro non parla nessuno, per loro non c'è nessuna soluzione, Israele non vuole far ritornare, e questo è accettato oramai dalla cosiddetta comunità internazionale. Io credo che davvero dobbiamo ricordare tutti in questo momento e non dimenticare nessuno.